Ciao a tutti, oggi vorrei proporvi un'attività ricreativa e ludica che potete fare insieme al vostro caro con Alzheimer per trascorrere un po' di tempo piacevole durante questa quarantena. Cosa vi serve? Vi serve un sacchetto che può essere di carta come in questo caso oppure un sacchetto per la spazzatura di quelli neri o comunque colorati. L'importante è che non si veda il contenuto che poi andremo ad inserire dentro. Per il contenuto da inserire dentro ci servono oggetti facilmente riperibili in casa. Per farvi un esempio io ho preso una molletta, una penna, un tappo da sughero e un cavatappi. Chiederemo al nostro caro di inserire la mano all'interno del sacchetto e attraverso il tatto cercare di capire quale oggetto sta toccando. Per comunque dare un feedback, un rimando al nostro caro, cercheremo di chiedere di togliere l'oggetto solo dopo aver detto di cosa si tratta. Quindi molletta e dopo chiediamo di farcelo vedere. Per continuare la stimolazione, quello che si può chiedere al nostro caro è di elencarci altre tre o cinque parole con la lettera M come molletta oppure altre tre o cinque parole che iniziano con la sillaba MO come molletta e così via per tutti gli altri oggetti. Io spero che vi possa essere d'aiuto questa attività, spero che la mettiate in pratica e se volete poi fare commenti, osservazioni potete farlo qua sotto nei commenti. Grazie e alla prossima!